Hai mai pensato di poter contare su un avvocato sempre al tuo fianco? Come si fa? È semplice! Entra nel nostro sito www.studiolegalelombardo.net Scegli il servizio di consulenza legale in videoconferenza Scegli il professionista più adatto al tuo problema Formula il quesito e allega un file Seleziona la data e l'orario della videoconferenza Senza installare software aggiuntivi, potrai entrare in videoconferenza con il tuo avvocato Ovunque ti trovi, comodamente dalla tua postazione Più vicini a te, più vicini alla soluzione del problema